Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, quella in arrivo sarà domenica ecologica, previsto lo stop al traffico privato con alcune deroghe nella fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e poi dalle 16.30 alle 20.30. Tra le deroghe ci sono quelle per le auto a benzina Euro 6, per i veicoli elettrici, ibridi, a metano o a GPL. Via libera anche ai veicoli con contrassegno disabili, a quelli dei servizi di sharing, ai ciclomotori 4 tempi Euro 2 successivi e alle moto 4 tempi Euro 3 e successive. Tutti i dettagli e l'elenco completo delle deroghe sono su romamobilità.it